Kate Middleton ha condiviso l'ultimo talento della principessa Charlotte durante un recente tour in Irlanda mentre si sorride del nuovo hobby di sua figlia, la principessa Charlotte ha recentemente iniziato la ginnastica secondo Kate Middleton, che ha detto è così buono per le loro abilità di base di equilibrio e coordinazione. La duchessa ha continuato, Charlotte è davvero appassionata di ginnastica, fa le ruote dei carrelli, le verticali, tutto, il principe William è intervenuto, e la loro flessibilità, fa davvero bene alla loro salute a lungo termine, vero? Virgolette. Di recente siamo andati a vedere il Cirque du Soleil, è stato fantastico. Charlotte non è l'unica ad avere un nuovo hobby, poiché anche George, a otto anni, ha iniziato a suonare la chitarra. Secondo quanto riferito, sia Charlotte che George prendono lezioni di danza classica, con il principe William che dice, Charlotte, in particolare, sta correndo per la cucina con i suoi vestiti e roba da balletto e tutto il resto, va completamente pazza con Louis che la segue in giro cercando di fare la stessa cosa. La principessa Charlotte ha festeggiato il suo settimo compleanno all'inizio di questo mese e attualmente frequenta la St. Thomas School di Battersea. Punto. Sembra che alla principessa piaccia tenersi occupata, dato che fa hobby da quando aveva 17 mesi, inclusa l'equitazione, che secondo quanto riferito è una delle sue preferite. Lo sport sembra funzionare in famiglia, tanto che hanno installato un campo da tennis nella loro casa di campagna a Norfolk in modo che possano esercitare le loro abilità, una fonte privilegiata rivela come sia stata coinvolta la figlia della principessa Anna, Zara Tyndall, che ha corso per la Gran Bretagna alle Olimpiadi. Punto. Hanno detto, William e Kate erano davvero entusiasti di far cavalcare George, è qualcosa che tutti i reali fanno e l'intera famiglia adora gli animali. Ma ovviamente è solo piccolo, quindi non volevano metterlo su un cavallo grande. Hanno chiesto a Zara se potevano usare uno dei suoi pony Shetland e lui ha imparato a cavalcare su uno di quelli. Grazie. 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 Grazie.